ciao a tutti ragazzi allora volevo dirvi il 19 novembre alle 21 e 30 non perdetevi per qualsiasi motivo al mondo la live che capitan findus farà sul suo canale dove festeggerà la data un anno esatto da cui aveva affermato che gli arabi si sarebbero palesati all'inter non so se vi ricordate quando faceva le live con il turbante quando metteva i cartelloni con il countdown meno 12 meno 11 meno 10 e quando si autoproclamò il pifferaio magico allora guardate quella live lì in massa ragazzi in massa guardatela tutti perché il capitano festeggerà la data il 19 novembre in cui aveva detto che gli arabi sarebbero approdati all'inter seguite la live in massa intanto colgo l'occasione per fare gli auguri al capitano per l'anniversario auguri capitano findus auguri grazie 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 grazie